Giovedì 7 settembre, Santa Regina. È il 250esimo giorno dall'inizio dell'anno e ne mancano 115 al termine. Il sole sorge le 6 e 39, tramonta le 19 e 38. La luna si leva alle 23 e 44, tramonta le 15 e 35. Nicolas Jenson, famoso tipografo e libraio, detta le sue ultime volontà. Poco dopo lo coglierà la morte. Secondo dei tipografi giunti a Venezia nel 400, vi aprì un'officina in società con Giovanni da Colonia. Fu il primo a usare il formato dei libri in sedicesimi e creatore dei cerebri caratteri romani, con i quali pubblicò le opere più belle del primo secolo dell'arte della stampa. Le previsioni per domani, cielo sereno, precipitazioni assenti, temperature senza variazioni di rilievo.